Siamo con Paola Brumana al termine della partita tra Tavagnaco e Brescia, 6 a 2 risultato, c'è poco da commentare, forse è mancato qualcosa a questo Tavagnaco, soprattutto nel secondo tempo per cercare di riaprire la partita? No, diciamo che abbiamo buttato via il primo tempo perché comunque mi pare che si è finito su 4 a 0 e nel secondo tempo abbiamo provato a reagire però era troppo tardi, siamo andati su 4 a 2 e poi abbiamo preso altri gol stupidi. Il problema di questa squadra in questo momento secondo me è che forse dovremmo tornare ad aiutarci come prima, tornare a capire che l'obiettivo secondo posto non c'è ma c'è un altro di cui è quello di difendere il terzo posto e quindi se magari tutte iniziamo a pensare a noi stesse, a fare una corsa in più per la compagna e tutto quanto forse iniziamo a risalire un po' la classifica perché se continuiamo così facciamo una brutta fine. Dici bene, infatti la Fiorentina vi ha già agganciato, il Mozzani che ormai è attaccato a voi e quindi questi 15-20 giorni di pausa serviranno per un po' ricaricare le pile e ripartire con la giusta mentalità? Sì, per fortuna sì perché così il mister nuovo sicuramente ha tempo per lavorare e lavorare sugli errori che facciamo, sulle cose positive che dobbiamo continuare a fare e speriamo di recuperare anche qualche infortunata tipo Mella e Polli perché comunque questa squadra ha bisogno forse anche dei ricambi che a volte sono fondamentali quando la squadra non sta girando. Grazie a tutti.